Sì, sì, di qua vanno, poi la vissiamo noi. Sì, sì, sì. Per favore, possiamo liberare? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Forza, sì. , sì. Sì, 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 sì. 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 Siamo qui tutta la sua strada a Malizia. Ci sono tanti. Dai, Silvio. Stiamo facendo il trenino, dai. Grazie, Marcello. Grazie, Marcello. E questi ragazzi non applaudiscono? Forza, forza! Non c'è problema. Veloce, testa. Grazie. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti